La chimica ci insegna che il nostro corpo è fatto di atomi per lo più associati a formare molecole, e di molecole diverse ne abbiamo tante, ma tante, nell'ordine di grandezza delle decine di migliaia almeno. E tuttavia, nonostante la numerosità delle componenti costitutive delle cellule e dei tessuti, inevitabilmente colpisce il fatto che il risultato finale, nell'insieme, sembra essere superiore alla somma delle parti. Inutile dire che questo non è il contesto giusto per affrontare la straordinaria complessità dei meccanismi biochimici che rendono possibile e regolano la vita. Interi corsi di studio, intere biblioteche sono dedicate a questo compito. Qui mi limiterò piuttosto a menzionare in rapida sequenza le principali classi Pillule biochimiche, in un certo senso, la dose minima indispensabile per poter affrontare lo studio sistematico della cellula e dei tessuti, che sarà di natura prettamente morfologica. Questa breve carrellata non può che iniziare con l'acqua, il solvente universale, la sostanza che costituisce il 60% del peso corporeo e il mezzo entro cui si svolgono essenzialmente tutte le reazioni biochimiche. Ora, delle innumerevoli proprietà fisico-chimiche di grande interesse dell'acqua ne menziono qui solo una. La molecola dell'acqua non ha una carica elettrica netta, ma gli elettroni tendono a essere maggiormente attratti dall'atomo di ossigeno, qui in rosso, lasciando parzialmente scoperti due atomi di idrogeno. E questa asimmetria nella distribuzione degli elettroni si definisce polarità e tale proprietà ha notevolissime conseguenze sull'organizzazione della materia vivente, come vedremo. Infatti, tra le molecole di interesse biologico è possibile effettuare una grossolana ma importante distinzione. Da una parte ci sono le sostanze apolari, con gli elettroni distribuiti in modo uniforme intorno alla molecola, come i lipidi di cui è fatto l'olio. Olio che, come sappiamo bene, è idrofobico, non solubile in acqua. E poi ci sono le sostanze polari, come quelle che compongono questo aceto, che invece sono idrofiliche, cioè rapidamente solubili in acqua. Come vedremo, questa distinzione sarà cruciale per comprendere come sono fatte le membrane cellulari e come funziona il passaggio di sostanze attraverso le membrane stesse. Bene, teniamo l'acqua sullo sfondo, passiamo adesso ai principali soluti, cioè quell'elenco sintetico delle molecole presenti nel mezzo acquoso della sostanza vivente, il cosiddetto protoplasma. Come vedrete, si tratta di un elenco incompleto, anche piuttosto grossolano, ma che spero sia sufficiente per i nostri scopi. In particolare ho predisposto quattro categorie in ordine crescente di massa, cioè in Dalton. Iniziamo dalla prima categoria, dove troviamo gli ioni atomici. Di cosa si tratta? Insomma, come sapete già, certi atomi tendono a perdere elettroni spaiati sugli orbitali più esterni, trasformandosi in ioni positivi o cationi, come per esempio il sodio, oppure a catturare elettroni per completare orbitali, come il cloro. Altri cationi di notevole interesse in biologia sono il potassio, il magnesio, il calcio e l'idrogeno. Per completare questo quadro vale la pena aggiungere un paio di molecole anioniche, il fosfato e il carbonato. Nell'insieme queste sostanze rappresentano i principali elettroliti, che sono fondamentali nell'omeostesi delle cellule e per estensione degli organismi. Teniamo presente che i delicati equilibri di concentrazione degli elettroliti nei diversi comparti, e vedremo di cosa si tratta, sono responsabili della corretta idratazione, del pH dei fluidi biologici, nonché della eccitabilità di certe cellule come i neuroni e le fibre muscolari. La seconda categoria include le sostanze che a pressione e temperatura ambiente si trovano in forma gassosa. Tra gli esempi è facile riconoscere i due gas probabilmente più famosi, ossigeno e nitride carbonica, poi un paio di specie gassose molto reattive, con particolari proprietà sia fisiologiche che tossicologiche, e infine alcuni farmaci di tipo anestetico. Non dovrebbe essere difficile ricostruire quali gas sono qui rappresentati, soprattutto facendo riferimento a questa leggenda. Una motivazione a presentare queste sostanze in una casella a sé stante è che, grazie alle dimensioni ridotte e ad altre proprietà fisico-chimiche di queste molecole, i gas tendono ad attraversare le membrane biologiche con notevole facilità. Qui per esempio sono rappresentati i due principali protagonisti degli scambi gassosi tra cellule e mondo esterno, e vedremo che il facile passaggio di queste sostanze attraverso la membrana ha un notevole impatto sulla fisiologia delle cellule. Nella terza categoria ho inserito tre tipi di molecole in forma monomerica, che a loro volta si aggregano a formare polimeri, che appartengono in realtà alla quarta categoria di sostanze di interesse. In particolare i carboidrati o saccaridi, che in forma polimerica si chiamano polisaccaridi, poi ci sono gli amminoacidi, che costituiscono i polipeptidi, cioè le proteine, e infine i nucleotidi, che danno origine ai polinucleotidi, ovvero gli acidi nucleici. Notate che per quest'ultima categoria non ho indicato esplicitamente un intervallo di massa molecolare, perché il range è così ampio da essere poco indicativo per i nostri scopi. Una utile semplificazione è dire che si tratta di molecole decisamente massicce, tanto da meritare il termine macromolecole. Per esempio il peso di una tipica proteina è facilmente nell'ordine delle decine di migliaia di Dalton. Qualche parola su ciascuno di questi gruppi, iniziando dai saccaridi, sinonimo di carboidrati. Anzi, attenzione perché la nomenclatura di queste sostanze è a dir poco variegata e si può creare confusione. A tal fine vi rimando ai testi di chimica e biochimica per maggiori dettagli sull'uso corretto di questi termini. Qui vi presento il carboidrato forse più famoso, il glucosio, che ovviamente spalanca la porta sul ruolo principe dei carboidrati in biologia, quello di rappresentare la principale fonte di energia per la cellula. Energia originariamente accumulata a partire dalla luce del sole, grazie alla fotosintesi. I monosaccaridi possono essere combinati a formare macromolecole come questa, il glicogeno, che funge da riserve energetiche in certe cellule. I carboidrati però svolgono altre importanti funzioni. Per esempio, sono i principali componenti di sostanze che agiscono in sede extracellulare, come il muco, oppure, e ricordate questo termine, la sostanza fondamentale amorfa dei tessuti connettivi. Poi, componenti glucidi che hanno anche un ruolo centrale nei meccanismi di riconoscimento tra cellule. Tanto per fare un esempio, sono responsabili del gruppo sanguigno, che è determinato dalla particolare combinazione di glucidi presenti sulla superficie dei globuli rossi. Il secondo gruppo di monomeri è rappresentato dagli amminoacidi, che è una famiglia piuttosto numerosa e articolata, i cui componenti tuttavia condividono una importante caratteristica di base. Tutti hanno un gruppo amminico e un gruppo carbossilico in grado di formare il cosiddetto legame peptidico con altri aminoacidi, dando origine a lunghe catene, catene peptidiche appunto. Per chi fosse interessato, ecco uno schema dettagliato del legame peptidico. Un altro aspetto di grande interesse è che mentre la catena peptidica, qui rappresentata dalle braccia, è stereotipata, sempre uguale, ogni aminoacido è caratterizzato da uno specifico gruppo laterale, detto anche gruppo R, qui facciamo finta che siano le zampe. E gruppi laterali sono tutti diversi tra loro, più grandi, più piccoli, polari, apolari, acidi o basici, eccetera. E tali differenti proprietà fanno sì che la catena polipeptidica tenda a ripiegarsi fino ad assumere una forma stabile. Il ripiegamento, in altre parole, d'origine ha strutture tridimensionali, come quella che vedete rappresentata qui. Ed è proprio la struttura tridimensionale a donare a ciascuna specifica proteina la sua specifica proprietà funzionale. E quali sono le funzioni delle proteine? Impossibili riassumere in poche parole questo concetto. Le proteine dentro e fuori dalla cellula fanno tutto. Sono mattoni e cemento, sono picconi e martelli, gru e trattori, sono operai e trasportatori. Fanno quasi tutto, incluso un ruolo attivo nella produzione di altre proteine. Ma c'è una cosa che le proteine non fanno. Le proteine non detengono le informazioni necessarie per sintetizzare nuove proteine. Queste informazioni sono contenute altrove, come penso sappiate bene. Sto ovviamente parlando del codice genetico che risiede fisicamente nel terzo gruppo di sostanze, i nucleotidi associati in acidi nucleici, cioè DNA e diverse specie di RNA. Non mi dilungo sul tema in questa sede, salvo che per farvi notare questa interessantissima differenza tra polipeptidi e polinucleotidi. Gli aminoacidi, come già detto, sono relativamente numerosi ed eterogeni e da questo dipende la complessità della struttura tridimensionale delle proteine. A ogni sequenza di aminoacidi corrisponde una specifica morfologia e da qui l'immensa varietà di proprietà funzionali delle proteine. Da contro, i nucleotidi che compongono il DNA sono solo quattro e quando sono messi in fila danno origine a una molecola di forma stereotipata, ripetitiva. Sappiate che prima della famosa scoperta della doppia elica, cioè della struttura tridimensionale del DNA, c'erano già importanti indizi sul fatto che tale molecola fosse responsabile dell'ereditarietà genetica. Ma proprio non ci si spiegava in che modo una molecola così ripetitiva, al punto di essere considerata noiosa, potesse racchiudere tutte le informazioni necessarie. Il trucco naturalmente era nascosto all'interno della doppia elica. Il codice era rappresentato, come ormai sappiamo bene, dalla sequenza di nucleotidi, con la ormai familiare tripletta di nucleotidi che corrisponde a un certo aminoacido da aggiungere a un polipeptide. Torniamo alla tabella un'ultima volta perché devo in realtà aggiungere una cosa. Questi tre grandi gruppi di polimeri non esauriscono la categoria delle macromolecole di interesse per noi. Anche qui, senza eccedere nei dettagli, devo modificare la quarta riga così, aggiungendo i lipidi. Si tratta di un'ampia famiglia di sostanze, molto eterogenee tra loro, caratteristicamente insolubili in acqua a casa della loro marcata apolarità. Anche qui è facile perdersi nelle classificazioni, quindi lasciamo perdere e vediamo in estrema sintesi a cosa servono i lipidi nel nostro corpo. Inutile dire che queste sostanze godono di grande fama come riserva energetica a lungo termine, ma qui è bene ricordare il ruolo biologico imprescindibile dei lipidi ben prima che sulla Terra comparissero animali dotati di tessuto adiposo. Mi riferisco ovviamente al fatto che i lipidi costituiscono la indispensabile base strutturale di tutte le membrane biologiche. Tanto per essere chiari, niente lipidi, niente vita su questo pianeta, come vedremo affrontando il tema della struttura del plasma lemma.